Salve a tutti! Ultimamente ho ripescato i miei vecchi libri di storia greca e romana, perché mi sto preparando per il concorso per l'abilitazione all'insegnamento. Mi è tornato in mente quando ho seguito il corso di storia greca all'università. La professoressa aveva diviso il corso in una parte generale e una monografica. In entrambe, ma soprattutto nella parte monografica, la professoressa si è sforzata di mostrarci come gli storici ricostruiscono ogni singolo evento storico. Basandosi sulla storiografia antica e sulle iscrizioni su stelle e monumenti vari, non furono presi in considerazione fonti archeologiche diverse, come edifici e cose simili. Evidentemente perché la professoressa non è un archeologa, noi erravamo di lettere classiche o di filosofia, non di archeologia. Ciò che mi interessa dirvi in questo video riguarda le fonti scritte. Soprattutto per la parte monografica, che era più nel dettaglio, per ogni singolo evento della storia c'erano varie testimonianze storiografiche di autori antichi, che scrivevano in greco oppure delle epigrafi, cioè iscrizioni su monumenti o reperti vari. Ci sono delle cose che mi colpirono durante questo corso, e non erano i libri che volavano in aula. Il corso monografico era sulla lega delioattica, fondata tra il 478-77 a.C. e sciolta nel 404 a.C. Gli storiografi di riferimento per questi eventi furono Erodoto, Tucidide, V secolo a.C. Senofonte, V IV secolo a.C. Le elleniche di Osirinco, V IV secolo a.C., Aristotele, IV secolo a.C., Diodoro Siculo, I secolo a.C., Plutarco, I II secolo d.C. Forse ce ne fu qualcun altro ma sono passati anni e non ricordo. Vi dico una cosa adesso, per essere chiari, qualora non abbiate già chiuso il video, prima che lo chiudiate. Queste fonti non sono coerenti tra di loro nei fatti narrati, è molto problematico stabilire quali siano affidabili e quali non lo siano. Soprattutto in caso di contrasto tra le informazioni, per non parlare del fatto che bisogna confrontare anche le fonti epigrafiche e archeologiche. Questi autori non furono tutti contemporanei degli eventi narrati, anzi, a parte i primi tre, sono vissuti anni o addirittura secoli dopo gli eventi narrati. Erodoto ha narrato eventi che certamente non ha visto di persona, anche perché la narrazione parte da eventi accaduti prima che lui nascesse, addirittura partendo da eventi, miti storici. Lui si basava su altre fonti, quindi potremmo dire che non ha una fonte diretta. Lui stesso, in quanto padre della storiografia si è posto il problema del metodo, lui infatti metteva insieme quello che ha visto lui stesso con ciò che i testimoni, a suo dire attendibili, hanno sentito e si pone anche il problema di come confrontare notizie contrastanti. Di fatto noi non possiamo dire che ci dobbiamo fidare di Erodoto perché ha messo per iscritto tutto ciò che ha visto, ma anche se lo avesse fatto, noi dovremmo porci altri problemi. Ad esempio lui poteva non essere oggettivo, come Cesare, che scrisse i commentari, dove narra le proprie vicende storiche di cui è artefice e protagonista, ma ovviamente non è neutrale. Oppure potrebbero esserci cose che non ha sentito e che non ha visto, oppure ha scelto il testimone sbagliato, oppure potrebbe tranquillamente avere inventato delle cose. Per questo lo storico analizza criticamente le fonti, è una questione molto complessa. Tucidide era un militare, alcuni eventi potrebbe averli vissuti in prima persona, per cui potrebbe essere considerato affidabile oppure, proprio perché coinvolto, come Cesare, potrebbe non essere oggettivo. A parte questo di Tucidide è problematica la questione dei discorsi. Lui ha fatto pronunciare in prima persona dei discorsi diretti a delle persone, pur non essendo stato presente. Lui credeva di scrivere ciò che verosimilmente si sarebbero detti. Ma non si tratta dei veri discorsi pronunciati dai personaggi storici. Riguardo autori posteriori, Diodoro è vissuto nel secolo avanti Cristo e ha scritto un'opera che narra dalla Mesopotamia a Cesare. Riguardo autori posteriori, Diodoro è vissuto nel primo secolo avanti Cristo e ha scritto un'opera che narra dalla Mesopotamia a Cesare. Ovviamente lui non è stato testimone in prima persona degli eventi della Mesopotamia, lui è vissuto molti secoli dopo. Eppure nessuno si sognerebbe di dire che Diodoro Siculo scrivesse favole o che inventasse i fatti. Plutarco ha vissuto nel primo secondo secolo dopo Cristo e ha scritto una serie di biografie di autori vissuti molto prima di lui o addirittura miti storici, come Teseo, Romolo, Licurgo e Numa Pompilio, che sono più mitologici che storici. Ma nonostante ciò nessuno direbbe che solo per questo Plutarco è un autore di favole o che non è affidabile per tutte le altre biografie che ha scritto. Per questi autori effettivamente gli storici si pongano il problema della distanza con i fatti narrati e delle fonti su cui si sarebbero basati. Il problema è che non sempre è possibile trovare fonti contemporanee a un evento. Diodoro Siculo è la fonte più antica relativa ad Alessandro Magno, è vissuto circa 400 anni dopo di lui. E non si sa dove finisce la leggenda e dove inizia la verità su Alessandro, per quanto riguarda ciò che riportano le fonti antiche. A questo punto, direste mai che la storiografia greca andrebbe cancellata, solo perché gli autori potrebbero non essere stati testimoni obiettivi nei confronti dei fatti narrati, oppure perché non esisteva alcun metodo oggettivo e affidabile per recuperare i fatti, oppure perché sono vissuti troppo tempo dopo gli eventi narrati, oppure perché le fonti si contraddicono o sono inverosimili, oppure perché l'autore avrebbe trattato di argomenti mitologici presentati come storici, oppure perché non si capisce come conciliare il racconto storiografico con l'archeologia, con la storia romana la situazione è anche peggiore. Come viene spiegato nel Manuale di Pani e Todisco di Storia Romana, gli annali erano i resoconti dei magistrati che narravano gli eventi principali di un solo anno. Era una storia fatta senza protesa di metodo, come in Tucidide o Erodoto, e riguardava un periodo troppo breve. Gli storiografi di mestiere sono pochi per la storia romana, le informazioni vengano prese da altri generi letterari, come i trattati, la satira, la poesia, la retorica. Inoltre a Roma si iniziò a scrivere la storia a partire dal III-II secolo c, mentre Roma fu fondata nell'VIII secolo, gran parte del materiale delle origini fu perduto. Gli storiografi di Roma principali furono Polidio e Plutarco, in greco, e Tito Livio, in latino. Le informazioni sulle origini di Roma vengono prese da due autori del I secolo a.C., cioè Livio e Dionigi di Alicarnasso. Dei primi cinque secoli di storia romana non abbiamo fonti contemporanee. Ma come ricordano anche Pani e Todisco, Livio anche se narra eventi a lui contemporanei, potrebbe essere influenzato dall'ideologia di Augusto e potrebbe non essere imparziale. A questo punto, vi ho annoiati parecchio e vi lascio questa alternativa. Dobbiamo cancellare tutta la storia greca e romana perché le fonti sono scarse, assente e inaffidabili, o a limite fidarci della storia ufficiale, a criticamente ma questa terza opzione ve la sconsiglio. Quindi prima di dire che una cosa è accaduta o non accaduta, o che un personaggio è esistito o non esistito, con dogmatica certezza, pensateci cento volte. E soprattutto, quando qualcuno viene da voi e vi dice che un tale personaggio non è mai esistito o se un determinato evento non è mai avvenuto per le ragioni, che vi ho appena elencato, fategli vedere questo video, condividete, o perlomeno fategli gli esempi che vi ho fatto, chiedetegli se si fida di Erodoto o di Polibio. Comunque vi chiedo di condividere, mettere mi piace ed iscrivervi per tamponare la disinformazione su questo argomento. Per il momento è tutto, alla prossima!